Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio tutti i link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. È il 13 giugno 2022. Una bambina di nome Elena è scomparsa, stando a ciò che dice la madre, Martina Patti. La donna afferma che la piccola è stata prelevata mentre era con lei a Tre Mestieri, un comune italiano di 19.517 abitanti della città metropolitana di Catania, in Sicilia. La denuncia è stata presentata ai carabinieri della tenenza di Mascaluccia, dove abita la madre. La notizia del sequestro è stata confermata dalla procura di Catania, che ha aperto un'inchiesta delegando le indagini ai militari dell'arma. I carabinieri sentono la madre della piccola per ricostruire il rapimento. Nel frattempo, diversi posti di blocco vengono istituiti sin dal pomeriggio nella zona dei paesi etnei. Immediata sui social è stata la gara di solidarietà per ritrovare la bambina. Tantissimi sono gli appelli con la fotografia della piccola per ritrovarla. Secondo indiscrezioni non confermate, sarebbero stati eseguiti accertamenti su una vettura abbandonata a tre mestieri. A parlare, fornendo solo pochi elementi al momento, è il procuratore Carmelo Zuccaro. Si esclude che il sequestro sia opera della criminalità organizzata, che storicamente non vuole rapimenti e gesti eclatanti nel territorio in cui opera. E anche che sia collegato a una richiesta di riscatto. La famiglia non ha problemi economici, ma neppure disponibilità tali da giustificare un sequestro estorsivo. La madre vive a Masca Lucia, dove ha presentato la denuncia ricandosi alla tenenza dei carabinieri. Una bambina di 5 anni è stata portata via da tre persone armate incappucciate. Fate girare questo post. L'appello, con tanto di foto, nome e indirizzo della piccola, comincia a girare sui social dal primo pomeriggio del 13 giugno 2022. Un passaparola diventato virale poche ore dopo che la madre della bambina è entrata sconvolta negli uffici della tenenza dei carabinieri di Masca Lucia, in provincia di Catania. Il racconto della donna è drammatico. Ha riferito, piangendo. Ero andata a prendere mia figlia all'asilo. Eravamo appena uscite, quando la nostra auto è stata bloccata. Hanno preso la bimba, lei urlava, ma l'hanno caricata su un'altra auto e sono scappati. Indagini e ricerche sono state subito avviate nella zona ed estese ad un'area più ampia. I carabinieri hanno acquisito e visionato dei video di sorveglianza a piano trimestieri e anche nella scuola materna frequentata dalla bambina, per trovare elementi utili alle indagini. Accertamenti e rilievi sono stati eseguiti da militari dell'arma del RIS di Catania, anche su alcune automobili ritenute in qualche modo coinvolte nelle indagini. I genitori e i familiari della piccola sono stati sentiti dai carabinieri per ricostruire frequentazioni e dinamiche che potrebbero essere utili. Gli inquirenti dicono fin da subito che quello della piccola è un sequestro di persona anomalo e la criminalità organizzata non sembra essere coinvolta. Il procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro, precisa Siamo in una fase molto delicata e non posso fornire alcun particolare, l'unica cosa che può escludersi in questa fase è la finalità di riscatto. Insomma, la piccola non sarebbe stata sequestrata per chiedere dei soldi, anche perché le condizioni economiche della famiglia non giustificherebbero davvero un'azione del genere. Inoltre, in Sicilia sono rarissimi i sequestri di persona. Sembrerebbe quindi un altro lo scenario in cui è maturato il rapimento della piccola Elena. Le indagini sembrano aver imboccato delle piste precise, anche se i carabinieri al momento si muovono con estrema cautela. Dagli interrogatori in corso contano che emerga qualcosa di concreto sul movente del sequestro, apparentemente misterioso. Vengono interrogati a lungo i genitori della piccola. Entrambi sono molto giovani, poco più che ventenni. La mamma ha sicuramente visto l'auto dei sequestratori. I carabinieri passano al setaccio i video di diverse telecamere di sorveglianza della zona di Piano Trimestieri, dove si trova l'asilo nella speranza di catturare qualche frame che fornisca una traccia per risalire ai sequestratori. In serata, la scientifica focalizza la sua attenzione su un'auto, che potrebbe essere quella utilizzata dai rapitori, ed effettua rilievi a caccia di tracce o impronte. I genitori della bambina, che al momento non convivono, sono stati interrogati a lungo. La donna e la figlia vivono con i nonni, ma i vicini parlano di un contesto familiare tranquillo. Il sindaco di Mascaluccia, Vincenzo Antonio Magra, afferma Mi ero messo a disposizione per le ricerche. Mi è stato detto che non si tratta di smarrimento, ma di altro. Forse, dinamiche familiari. Per procure carabinieri il sequestro resta ancora un giallo, in quanto escludono la mano della criminalità organizzata, come già detto, e che sia collegata a una richiesta di riscatto. Di conseguenza, valutano ogni ipotesi. Nella notte proseguono gli interrogatori e la raccolta di prove, verifiche e ricerche. I carabinieri si concentrano sulle impronte digitali sull'auto della madre della piccola. Purtroppo, la drammatica vicenda che ha coinvolto la piccola Elena ha l'epilogo peggiore che si possa immaginare. La bambina non è stata rapita e non è scomparsa. Il suo corpo, ahimè senza vita, è stato trovato sottoterra, in un terreno incolto a poche centinaia di metri dalla casa di Mascaluccia, nella quale viveva con la mamma, Martina Patti, di 23 anni. È stata proprio lei a condurre i carabinieri sul posto, dopo una lunga notte nel corso della quale è stata messa sotto pressione perché, quanto raccontato il giorno prima, non convinceva gli investigatori le anomalie che erano troppe. E alla fine, la giovane donna ha confessato. Il rapimento, infatti, è stata una messa in scena. A uccidere la piccola è stata lei dopo essere andata a prenderla all'asilo. E il video diffuso dai carabinieri di Catania riporta l'apparente serenità di quel momento, enfatizzandone così la drammaticità. Nel video si vede come la piccola Elena abbraccia la madre, poi saluta per l'ultima volta i suoi compagni. Martina Patti afferma di avere agito senza capire cosa stesse facendo. Non è riuscita a fornire una dinamica completa del delitto né del movente. Da quello che emerge, Elena è stata uccisa nella sua abitazione a Mascaluccia. La madre ha portato poi il corpo in un vicino terreno di campagna abbandonato, un campo di rovi e sterpagli a 500-600 metri dalla sua abitazione e ha cercato di coprire il corpo con della terra e cenere lavica. Il delitto è stato commesso dopo che la donna ha recuperato la piccola all'asilo. Mamma e figlia erano sole in casa. La procura chiaramente ha arrestato Martina Patti per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. I genitori della piccola hanno avuto dei dissidi personali e vivono in case separate. Il padre di Elena in passato è stato denunciato perché faceva il corriere di sostanzine e indagato anche per una rapina. Reato quest'ultimo da cui è stato poi assolto per non aver commesso il fatto. La coppia si era trasferita a Mascaluccia da un altro comune, San Giovanni La Punta. Il papà, dopo essere stato avvisato dalle autorità, si è recato sul luogo del ritrovamento del corpo della piccola insieme alla sua nuova compagna. Martina Patti ha raccontato a investigatori e inquirenti come ha ucciso la figlia. L'ha colpita più volte con un coltello da cucina, poi ha messo il corpo in dei sacchi neri, per poi nasconderlo sottoterra a poche centinaia di metri dalla casa dove abita. La donna ha precisato di aver portato a termine l'orrendo crimine in maniera solitaria. Un primo esame medico-legale sul corpo della piccola ha evidenziato molteplici ferite da armi da punta e taglio, alla regione cervicale e interscapolare. L'ipotesi che la piccola Elena fosse stata rapita da un gruppo di uomini incappucciati, come denunciato dalla madre nel pomeriggio del 13 giugno, è stata smentita dalle telecamere di sorveglianza, nonostante una strenua difesa della propria versione da parte della donna. Lo afferma la procura di Catania, che sottolinea che «Le prime risultanze investigative hanno consentito di accertare la mancata corrispondenza al vero del fatto denunciato, attesa l'assenza di gruppi armati in via piave nelle fasce orarie indicate». Secondo il racconto della donna, il rapimento della figlia sarebbe stato una conseguenza del comportamento dell'ex compagno per non aver ascoltato precedenti messaggi minatori fattigli recapitare presso la propria abitazione, in ragione del tentativo posto in essere di «individuare il reale complice di una rapina ai danni di una gioielleria di Catania», al posto del quale venne arrestato il 15 ottobre del 2020 e successivamente assolto nel settembre 2021 per non aver commesso il fatto. Il comandante del reparto operativo dei carabinieri di Catania, il colonnello Pier Carmine Sica, in conferenza stampa ha affermato che il quadro emerso dalle indagini è di una famiglia non felice, in cui la gioia della figlia non ha compattato la coppia. Il colonnello ha inoltre escluso il convolgimento di altri nel delitto. Il movente, ipotizza l'ufficiale, può essere la gelosia nei confronti della nuova compagna dell'ex convivente, ma anche per l'affetto che Elena mostrava nei confronti della donna. Martina Patti sulla motivazione che l'ha spinta a questo gesto non ha detto nulla. È rimasta sul vago, come se non si fosse resa conto di quello che ha fatto e come se avesse detto «l'ho fatto, ma non so il perché». Sullo sfondo emergono veleni in famiglia, tra accuse e bugie. Il nonno paterno dice «che è stato deve pagare» e la moglie rincara la dose. «Era autoritaria e dispotica, ossessionava mio figlio, metteva le mani addosso ad Elena e gliel'abbiamo dovuta togliere spesso dalle mani». Dall'altra parte, la risposta non si fa attendere, i genitori della ragazza ribattono. «Hanno lasciato Martina da sola fare la mamma quando aveva 18 anni, una ragazzina che sognava di fare il medico e invece si è trovata a crescere una creatura da sola». E qui vorrei fare una riflessione. Capisco e comprendo che da genitore venga naturale in un certo senso provare a difendere la propria figlia anche se ha fatto una cosa mostruosa. Ma non si può giustificare un delitto del genere con una frase di questo tipo. Martina sarà diventata mamma da sola, a 18 anni, quando sognava di fare il medico, ma presumo fosse abbastanza matura per decidere se tenere la bambina e quindi inevitabilmente cambiare la sua vita oppure continuare a studiare e quindi magari darla in adozione. Credo che una scelta del genere sia molto matura, specialmente se si ragiona bene. Insomma, la nascita di un bambino non può essere per la madre un peso. Se questa madre sente un peso, allora non era pronta a fare la mamma perché mamme non si nasce, si diventa. E pure facendo tanti errori. Sono proprio quegli errori che permettono ai giovani genitori di crescere e responsabilizzarsi, ma chiaramente bisogna vedere la situazione in un'ottica positiva, non negativa, altrimenti, ripeto, meglio non farli figli. Oppure in caso, darli in adozione perché di famiglie che vorrebbero mettere al mondo un figlio ma non possono. Ce ne sono. E quelle famiglie hanno tantissimo amore da dare. Detto ciò, andiamo avanti. La situazione familiare è emersa dalle testimonianze raccolte dagli investigatori, a partire da quella della stessa Martina Patti e dell'ex compagno Alessandro del Pozzo. Quello emerso, secondo la procura, è un triste quadro familiare, costituito da due ex conviventi che, a prescindere dalla gestione apparentemente serena della figlia, avevano allacciato nuovi legami e non apparivano rispettosi l'un l'altro. Durante l'interrogatorio, la mamma di Elena ha continuato per tutta la notte a raccontare la sua versione, quella del rapimento. Per questo le è stato contestato anche il reato di false informazioni al pubblico ministero. Solo nella tarda mattinata del giorno dopo ha ceduto, quando i carabinieri si apprestavano ad effettuare i rilievi nell'abitazione dove Martina ed Elena vivevano. A quel punto, ha confessato. Ci sono anche i dettagli delle ripicche con l'ex compagno per le foto sui social. Allora, sembra che l'uomo abbia messo su Facebook uno scatto con la nuova ragazza. E la piccola Elena abbia detto a Martina che quando era col suo papà c'era anche quella ragazza. La risposta di Martina riguardo a questa situazione pare essere stata «Non provo fastidio, anzi meglio, così mi lascia stare e in pace». L'ex di Martina conferma «sì, ma è in chiave opposta». Spiega infatti che giorni prima Martina l'aveva informato che la bambina era arrabbiata con lui perché Martina le aveva mostrato una foto di suo padre insieme alla nuova compagna. Il ragazzo aggiunge «Forse ho sbagliato, ma pure io ho fatto vedere a Elena le foto di sua madre con il suo compagno. Credo che Martina provi ancora qualcosa per me». E racconta che la sera prima del delitto Elena aveva dormito con lui e la nuova compagna. Insomma, capirete bene che quella bambina era diventata un'arma impropria che i genitori usavano a turno per farsi i dispetti. L'ordinanza svela che la mattina della confessione il primo cedimento Martina l'ha avuto col padre. L'uomo, che aveva intuito qualcosa, le ha detto «Dimmi la verità». E la ragazza ha risposto «Papà, poi va a finire che non mi volete più bene». E ha aggiunto «La bambina non c'è più». Rosaria Testa, la nonna paterna della bambina, afferma «Avevamo creduto alla storia degli uomini incappucciati, non avevamo ragione di non credere». Elena era una bimba meravigliosa. Quando hanno litigato i genitori, non voleva andare via da casa. Un giorno la mamma le stava mettendo le mani addosso «E gliel'abbiamo dovuta togliere». Quella mattina l'ho accompagnata a scuola e le ho detto «Nessuno ti vuole bene più di me». Lei mi ha guardata e mi ha fatto capire chi aveva capito quello che avevo detto. Secondo la donna, vi ripeto, Martina era ossessionata da suo figlio. La cognata di Martina rivela alcuni particolari. «Martina Patti voleva incastrare mio fratello. Un anno fa mio fratello fu accusato ingiustamente di una rapina, ma fortunatamente fu scagionato completamente. Quando nel carcere passò ai domiciliari sotto casa, trovammo un biglietto di minacce con scritto «Non fare lo sbirro, attento a quello che fai». Mio fratello non sa nulla di nulla». A questo biglietto la madre della bimba ha fatto riferimento dicendo che avevano rapito Elena. La madre disse che quelle persone incappucciate avevano fatto riferimento al biglietto dicendo «Non ti è bastato il biglietto? Digli a tuo marito che questa è l'ultima cosa che fa. A tua figlia la trova morta». Il parroco di massa annunziata e rettore del santuario di Montpilieri, padre Alfio Privitera, afferma «C'è un angelo in paradiso e poi c'è o una mamma che non stava bene psicologicamente o qualcuno ha combinato qualche pasticcio». La nostra società agli eroi e i disgraziati e aggiunge che questa vicenda diventi un motivo per riflettere sul valore della vita e sull'assistenza da dare alle persone che non stanno bene con la testa. Mentre il sindaco di Mascaluccia, Enzo Magra, commenta «Sono sconvolto. Appresa la notizia, sono scoppiato in un pianto a dirotto. È una notizia di una drammaticità unica che non avremmo mai voluto apprendere». Ma c'è ancora da far luce su diversi punti. Il primo riguarda proprio la dinamica del delitto. Martina ha ucciso la piccola appena dentro casa, di ritorno dall'asilo o, come sembra, ha a lungo chiacchierato con la piccola prima di ammazzarla con alcuni fendenti? Martina ha fatto tutto da sola? Lei sostiene di sì, ma è difficile pensare che abbia messo il corpo in alcuni sacchi se li sia caricati sulle spalle e li abbia trascinati per oltre 200 metri in campagna sotto un sole coccente e, arrivata sul luogo designato, abbia scavato una buca per seppellire il corpo. Soprattutto, come ha fatto Martina a portare il corpo fino a quel campo? Possibile che nessuno si sia accorto di nulla? E ricordiamo che dopo tutto questo avrebbe anche ripulito casa da sola togliendo le tracce di sangue prima di avviare la messa in scena del rapimento. L'ex suocero a riguardo è perentorio. Non può aver fatto tutto da sola. Ha avuto un complice. È possibile che l'autopsia tolga gli ultimi dubbi su come sia stata uccisa la piccola. Nel frattempo, la difesa di Martina Patti annuncia che intende chiedere una perizia psichiatrica per la propria assistita. Il 15 giugno Martina racconta con un filo di voce piatto e incolore il film del delitto della sua piccola. cerca di dare un nome al tarlo che si era insinuato nella sua mente fragile preda di una gelosia cieca. L'ho portata a casa dall'asilo. Elena ha voluto mangiare un budino poi ha guardato i cartoni animati dal mio cellulare. Io intanto stiravo. Sono le 14 di lunedì caldo. In serata dovevamo andare da un amico per il compleanno. Elena era contenta. Come lo era quando ero andata a prenderla un'ora prima all'asilo e la piccola l'aveva abbracciata forte e baciata. Il racconto continua. Quando l'ho colpita, avevo una forza che non ho mai percepito prima. Non ricordo la reazione della piccola. Forse era ferma. Ho un ricordo annebbiato. Ma ho agito come se qualcuno si fosse impadronito di me. Un coltello da cucina. La piccola sgozzata in un campo. Colpita il collo, la nuca, la schiena per sette volte. Poi Martina prende cinque sacchi neri e ci infila il corpo gettandolo dentro una buca che forse aveva scavato in mattinata con un piccone o una pala e coprendolo con qualche vangata di terra lavica odorosa di zolfo. Un elemento che, se confermato, configura anche la premeditazione. Martina procede e spiega. Era la prima volta che portavo la bambina in quel campo. Qualche tempo fa c'ero stata da sola per piantare asparagi. Ho davanti agli occhi l'immagine del coltello ma non ricordo assolutamente dove l'ho preso. Ribadisce di aver fatto tutto da sola ma molte tessere del racconto non si incastrano. Per prima cosa, gli investigatori non sono certi che la piccola sia stata uccisa in quel campo brullo. Anzi, sospettano che il delitto sia avvenuto nell'abitazione messa sotto sequestro in attesa di un nuovo sopralluogo dei RIS. Se fosse così, chi ha fatto sparire le tracce di sangue dalla villetta di via Euclide? Chi l'ha aiutata a trasportare il corpo fino alla piccola boscaglia? Chi l'ha assistita nel seppellire la piccola? E infine, dove è finito il coltello? Chi lo ha lavato e riposto tra le stoviglie? Martina continua. Non ricordo, piangevo forte e mi sono cambiata gli abiti. Non erano sporchi di sangue. Solo le braccia erano intrise del sangue della piccola. Non ricordo di averla sotterrata, ma sicuramente sono stata io. Troppi non ricordo che si aggiungono a una ricostruzione lacunosa. L'unica cosa a cui sembra tenere è il corso di infermiera. L'avvocato Gabriele Celesti traccia già la linea difensiva. Farò incontrare la mia assistita con uno psichiatra di fama per verificare le sue condizioni e, dopo, decideremo sulla perizia. Va affinato comunque il movente di un gesto tanto terribile. Secondo il procuratore Carmelo Zuccaro e la vicaria Marisa Scavo, i magistrati che hanno firmato il decreto di fermo, alla base c'è la gelosia e l'ossessione verso la nuova compagna dell'ex convivente e padre di Elena, Alessandro Del Pozzo. La bambina si mostrava troppo affettuosa e felice verso la fidanzata del papà. Per questo motivo Martina avrebbe pianificato il delitto costruendosi un alibi farlocco e un luogo dove occultare il corpo della piccola. L'avvocato Gabriele Celesti, ritornando sulla ricostruzione fornita sul movente dell'omicidio della sua assistita Martina Patti, afferma Ha agito come se non fosse lei, come se avesse avuto una forza sovrannaturale, alla quale non ha potuto resistere e non c'è stato un pensiero che l'ha potuta frenare. Il penalista ha continuato. È stato un interrogatorio drammatico. Lei non è una donna fredda e calcolatrice, ma una donna che sta prendendo consapevolezza del fatto. È ovviamente sconvolta perché ha sconvolto non solo la propria vita, ma anche quella della propria famiglia e di quella del suo ex compagno. E le ripercussioni saranno gravi. Il legale, prima di entrare al palazzo di giustizia parlando con i giornalisti, racconta che i genitori di Martina Patti, i nonni materni della bambina, sono sconvolti. Hanno perso una nipote, che era come una figlia, e una figlia ora è in carcere. È un fatto che ha stravolto la loro vita, si sono stupiti della notizia del rapimento, ma in quel momento immagino che il solo pensiero principale fosse quello di trovare la bambina, non di pensare ad altro. Rende noto inoltre che Martina, nell'interrogatorio ai carabinieri e alla procura, non ha saputo ricostruire cosa è accaduto perché era come annebbiata. È chiaro che poi si possono innescare dei meccanismi psichici di rimozione perché ovviamente si tende ad allontanare da sé il fatto. Una perizia psichiatrica? Noi faremo accertamenti del caso con uno specialista per vedere se ci sono rilievi di profilo psichiatrico che possono aver influito sul fatto. Ma una valutazione su questo oggi è prematura, poi tecnicamente cercheremo di fare tutto quello che possiamo fare, anche per colmare le lacune che ancora ci sono nelle indagini. Il rapporto con l'ex si era concluso da tempo. C'era la figlia che, come può accadere nelle separazioni, può costituire motivo di ripicca, conflitto o ricatto, a seconda della mentalità dei protagonisti. Non so se il movente della gelosia sia reale o parziale, di questo la signora non ne ha parlato. Martina Patti è detenuta nel carcere catanese di Piazza Lanza, controllata a vista 24 ore su 24, nel timore che possa compiere qualche gesto di autolesionismo. Il 16 giugno 2022, dopo giorni rinchiuso nel suo dolore, rompe il silenzio il papà della piccola. Alessandro del Pozzo affida a una lettera le sue riflessioni dopo la tragedia. Racconta il suo dolore, il suo strazio e la sua rabbia nei confronti dell'ex compagna. L'uomo premette, non avevo nessuna intenzione di rilasciare un'intervista perché sono troppo addolorato per ciò che è successo, ma lo reputo giusto nei confronti di mia figlia. E continua, ho sentito parlare di pazzia e di gelosia morbosa, ma non ho sentito parlare di cattiveria e sadismo. Come si può reputare un raptus quello che ha fatto Martina? Un omicidio premeditato e studiato in ogni particolare. I momenti di pazzia sono seguiti da momenti di lucidità. Lei invece non si è nemmeno pentita di aver ucciso la piccola. Bensì, ha messo Elena dentro dei sacchi della spazzatura. L'ha sotterrata, si è ripulita e ha ripulito. Ha inventato un sequestro, creandosi un alibi e ha colpito la sua macchina per inscenare un'aggressione. 24 ore di bugie. Secondo il padre della bambina, la sua ex compagna ha commesso il crudele omicidio con fredda premeditazione. Si crea pure l'alibi e si occulta il corpo. Questo non può essere un raptus di pazzia. Poi, il ricordo della piccola. Usando il tempo presente, non il passato. Amo mia figlia, più di ogni altra cosa al mondo. È uguale a me in tutto e per tutto. Me l'ha uccisa, me l'ha portata via. Non perché non volesse che legassi con la mia compagna, ma perché voleva mettermela contro. Le parlava male di me ogni giorno ed Elena me lo veniva a raccontare. Non ci sarebbe potuta riuscire perché io ed Elena siamo una cosa sola. E lei la odiava per questo. Ha tentato di parlarle male di me fino al giorno che ha capito che non ci sarebbe riuscita e ha studiato come farla fuori. Un messaggio questo carico di dolore e rabbia che l'uomo ha deciso di inviare con un whatsapp ai giornalisti che stanno seguendo il caso subito dopo aver sentito le parole del legale di Martina dopo un colloquio in carcere. Lui parla, ma fa solo il suo mestiere. Poi torna sulla premeditazione dell'ex compagna Martina Patti. Ha preso Elena dall'asilo un'ora prima perché già era preparata mentalmente. Questa è una chiara prova di una mente sana in grado di organizzarsi. Elena aveva tutta la vita davanti e tanti traguardi da raggiungere. Sono distrutto, mi sento un vuoto dentro incolmabile. Ho sempre promesso a mia figlia che l'avrei tenuta al sicuro come ogni buon padre farebbe. Avrei dato la vita al posto suo. L'ho chiesto a Dio, ma non accetta solustituzioni. Non potevo mai, e dico mai, pensare che l'avrei dovuta proteggere proprio da sua madre. Le parole nei confronti dell'ex moglie sono molto dure. Martina non meritava una figlia come Elena. Speciale e unica in tutto. Elena vive ogni giorno dentro il mio cuore. Martina Patti nell'interrogatorio davanti a Jeep di Catania conferma sostanzialmente tutto quello che ha detto nelle dichiarazioni rese a Carabinieri e Procura. Ribadisce di aver ucciso Elena da sola nel luogo in cui il corpo è stato ritrovato, ma accompagna la sua ricostruzione con molti, non ricordo, sulla dinamica che sembrano pretestuosi. O almeno questa è la valutazione della Procura di Catania dell'udienza di convalida del fermo della donna per omicidio premeditato, pluriaggravato e occultamento di cadavere. Il Jeep Daniela Monaco Crea ha convalidato il fermo della Procura ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare per omicidio premeditato, pluriaggravato e occultamento di cadavere. Il 17 giugno alle ore 11.30 si conclude l'interrogatorio di garanzia all'interno della casa circondariale di Piazza Lanza. Ad assistere Martina l'avvocato Gabriele Celesti che il 16 giugno ha avuto una videochiamata con lei in vista dell'interrogatorio. L'avvocato ha riferito. Abbiamo parlato mezz'ora e molto provata e scossa dallo stato di detenzione. Quando parla della figlia è travolta dall'emozione e piange ma vuole collaborare con gli inquirenti. All'uscita del carcere dopo l'interrogatorio illegale appare più cauto e commenta con poche parole. La signora ha risposto alle domande del giudice. Non posso aggiungere dettagli di alcun tipo. Non è chiaro se nell'interrogatorio Martina Patti ha chiarito tutti i dubbi nella ricostruzione dell'omicidio che erano stati avanzati dagli investigatori nelle ore precedenti. Non sono sette le coltellate come avevano detto gli inquirenti dopo un primo esame del corpo ma addirittura undici. Questi colpi inferti sulla piccola Elena che l'hanno raggiunta al collo e alla schiena sono compatibili con un coltello da cucina che non è stato ancora trovato. Uno solo dei quali è stato letale perché ha reciso i vari dell'arteria su clavia. Ma la morte della piccola non è stata immediata. Questi sono i primi risultati dell'autopsia eseguita nell'obitorio dell'ospedale Cannizzaro di Catania dal medico legale Giuseppe Ragazzi. Dai risultati dell'autopsia sono arrivati i dettagli che permettono di stabilire anche l'orario del delitto. La morte infatti sarebbe avvenuta dopo più di un'ora dal pasto che aveva consumato a scuola alle 13. La procura ha richiesto l'esame tossicologico. Si vuole capire se la bambina è stata sedata, elemento che andrebbe a rafforzare l'ipotesi della premeditazione. Nel frattempo Martina Patti resta in carcere nella selva di non ricordo. Reagisce solo quando le chiedono di raccontare il momento esatto in cui ha colpito la figlia. Dice, non ricordo, ma subito sente il bisogno di spiegare perché ero girata e non volevo guardare. Dopo la ricostruzione dei fatti e la confessione, il GIP è durissimo. Perché uccidere un figlio in tenera età e quindi indifeso, oltre a integrare un gravissimo delitto, è un comportamento innaturale, ripugnante, eticamente immorale, riprovevole e disprezzabile, per nulla accettabile in alcun contesto, indice di istinto criminale spiccato e di elevato grado di pericolosità. Martina non ha mostrato segni di pentimento, il GIP continua. Ha inscenato il rapimento con estrema lucidità e non ha manifestato segni di ravvedimento e pentimento, tutti elementi che denotano una particolare spregiudicatezza, insensibilità assoluta, mancanza di respiscienza. Nelle 15 pagine del suo provvedimento, la dottoressa Monaco Crea mette in rilievo la fredda determinazione di Martina Patti e scrive che ha organizzato il delitto con l'aggravante della premeditazione. Per questo deve chiaramente restare in carcere, in quanto ci sono tutte le esigenze cautelari, pericolo di fuga, di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato. In breve, secondo il magistrato, questa donna minuta e dall'aria apparentemente inoffensiva è ancora pericolosa, per gli altri e per se stessa. Dovrà restare in isolamento. Il legale della donna, l'avvocato Celesti, afferma. Valuteremo il provvedimento del GIP e nei termini previsti decideremo se impugnarlo. Carmelo Zuccaro, procuratore di Catania, osserva invece che, al termine dell'interrogatorio di garanzia è stato accolto il nostro impianto accusatorio e i nostri dubbi sulle parti ancora oscure. Dovuti, per noi, ai tanti non ricordo e alla tendenza a mentire dell'indagata. Le affermazioni più oscure di Martina che necessitano di indagini e chiarimenti sono Non ricordo se ho sotterrato la piccola. Non ricordo di aver deciso di andare nel campo prima di uscire. Non ricordo dove ho preso il coltello. Poi la strana sequenza temporale. Martina dice di essere andata a casa dei genitori in stato confusionale dopo il delitto. E poi di essersi andata a cambiare a casa sua. Poi afferma di aver incontrato per strada i genitori e l'ex compagno. E solo in quel momento sembra che abbia raccontato la storia del sequestro. C'è un buco di circa un'ora dopo il delitto in cui non si capisce bene cosa abbia fatto. Questo prima di imbastire il suo fragile castello di bugie danneggiando la maniglia dell'auto per rendere credibile la storia del sequestro. Al vaglio degli inquirenti anche le telefonate dei giorni precedenti con un ragazzo che frequentava. E Riz hanno lavorato per oltre sei ore. In casa di Martina Patti e nel campo dove sostiene di avere eliminato Elena e dove ha fatto ritrovare il corpo all'interno di una buca semicoperta dalla terra. Gli inquirenti sono a caccia di riscontri per verificare il racconto della donna che secondo loro non direbbe tutta la verità. Anche se ha confessato di essere stata lei a commettere quell'atroce delitto. Sabato 18 giugno i Riz lavorano fino alle 22.30 ma non trovano l'arma utilizzata per il delitto che secondo l'autopsia è compatibile con un coltello da cucina. L'hanno cercata ovunque usando i droni scavando nel territorio e cercando tra i rovi della macchia mediterranea nei pressi del campo dove è stato trovato il corpo. Niente. Dell'arma non c'è traccia. In casa di Martina Patti invece i Riz sono andati alla ricerca di eventuali tracce di sangue ma per il momento non rivelano se ne hanno trovate o no. Sequestrati molti reperti utili alle indagini, coltelli trovati nella cucina di casa, da comparare con le ferite riscontrate sul cadavere della bambina e vestiti di Martina Patti. Poi un particolare. Sul tavolo della cucina i Riz hanno trovato una parte del budino che la bambina stava mangiando. L'autopsia, conclusa all'ospedale Canizzaro di Catania, restituisce un altro tassello della dinamica dell'omicidio commesso da Martina. Ha colpito la piccola con undici coltellate vibrate senza pietà. Poi l'ha lasciata ancora viva, agonizzante, per un'ora. Mentre Martina imbastiva la messa in scena del rapimento da parte di una banda di incappucciati, allarmando l'ex compagno e i carabinieri, la piccola Elena moriva dissanguata per la rottura dell'arteria succlavia, tranciata da un mortale fendente, coperta da cinque feti di sacchi neri, in una campagna ostile, dentro una buca. I RIS dei carabinieri nell'abitazione hanno inoltre trovato tracce di sangue su vestiti e in alcuni punti della casa. Nessuna traccia, ricordiamo, dell'arma del delitto. La procura di Catania, nel confermare la notizia, ribadisce che si tratta di macchie di sangue portate dall'esterno. Dagli ultimi e più recenti esiti degli accertamenti del RIS si può non con certezza escludere che l'omicidio sia avvenuto a casa, dove le tracce di sangue rinvenute sono da riporto. Nel frattempo si sono svolte in diretta social e tv i funerali della piccola Elena. Le esequie sono state celebrate nella cattedrale di Catania dall'arcivescovo Luigi Renna. Per dare seguito alla grande partecipazione emotiva della gente alla triste vicenda, la Curia ha deciso di trasmettere la funzione in streaming e sui canali YouTube e Facebook dell'Arcidiocesi di Catania, così da consentire a tutti gli inviati delle emittenti televisive che non potranno accedere direttamente alla cattedrale di fruire delle immagini. Il feretro è giunto poco prima delle 17 nella cattedrale, accolto da un lunghissimo applauso e da un volo di palloncini bianchi. Ad attendere il carro funebre circa 300 persone e sul sagrato una decina tra corone e cuscine di rose bianche e gialle, rosa e arancione. Anche i due cuscini con le scritte «Le mamme di Acuna Matata», l'asilo frequentato dalla piccola. Ad accompagnare il feretro in lacrime il padre Alessandro, il nonno Giovanni, la zia Martina Vanessa e la nonna Rosaria Testa. Piazza Duomo e le aree intorno sono transennate e la zona è presidiata dalla Polizia di Stato, Esercito e Protezione Civile. Monsignor Renna ha aperto l'omelia esortando i genitori a non insegnare la violenza delle parole ai figli, né sui social né sui nostri muri, già abbastanza sporchi. Perché un bambino non è capace di concepire vendette, sedie elettriche, patiboli mediatici e se impara queste cose, le impara da noi. Sforziamoci di seminare ciò che Cristo e ogni uomo di buona volontà spargono con abbondanza. Misericordia, pietà, giustizia, dialogo, prevenzione ed ogni violenza. Solo così non ci saranno più funerali come questo. L'arcivescovo cita anche la madre di Elena. Tutti noi come giudici siamo pronti a lapidare, sempre qualcuno che ha sbagliato. Ho letto sul muro della città una frase che chiedeva riposo eterno per Elena e tormento eterno per la sua mamma. Non credo che la piccola Elena sarebbe d'accordo con quelle parole. Come ogni bambino. Citando le parole di un pedagogista polacco, Monsignor Renna ha invitato gli adulti ad alzarsi sulle punte dei piedi per stare all'altezza dei bambini. Quando non mettiamo al centro i piccoli, perdiamo il metro per giudicare ciò che è importante. Basta con queste violenze. Ferire un bambino è la cosa più terribile che possa accadere a una mamma, a un papà, a un adulto. Cari adulti, tenete fuori i bimbi dai vostri conflitti. Ci sono altre strade da percorrere, molto più sicure per la gioia di tutti, per vedere a ritornare il sorriso sul volto dei piccoli, il dialogo, il perdono, l'umiltà di chi vuol riparare, saper uscire in punta di piedi dalla vita dell'altro, con rispetto e con l'amitezza. Al termine dell'esequio fuori dalla cattedrale, umori contrastanti fra la gente che ha atteso l'uscita del ferreto della piccola. Si alzano cori a saluto di Elena, di vicinanza della famiglia e di rabbia. Il 21 febbraio 2023 emerge che la procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per Martina Patti. L'udienza davanti al GIP Stefano Montonieri si terrà il prossimo 17 aprile e ovviamente seguirò il caso e vi terrò aggiornati. Questo è un caso che io ho trovato davvero molto doloroso. Ho fatto fatica a scriverlo, ho fatto fatica a fare questo video. Io purtroppo ho finito le parole, non ne ho più di parole per questi atti davvero terribili, quindi voi cosa ne pensate di questo caso? Come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!